Domenica da brividi per il mondo della palla ovale piacentina, in Serie A con il City of Lions ma anche nella Serie Cadetta grazie al Piacenza. Per i rugby di casa nostra in paio ci sono punti pesanti che possono valere un'intera stagione. I leoni bianconeri dopo l'ultimo successo interno affrontano in campo avverso la Prorecco, di fronte seconda e terza della classe con i piacentini che puntano ovviamente al sorpasso. Si tratta dunque di un match chiave come del resto quello che andrà in scena alle 14.30 di domani al Beltrametti. La Serie B propone infatti in casa del Piacenza Rugby la visita della supercapolista Pesaro che vanta sei punti di vantaggio sulla squadra di Pagani. Nel big match di domani potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Matteo Bonatti, uno dei volti nuovi arrivato dal Parma nel corso del mercato invernale. Per il giovane seconda linea sarà la domenica del ritorno in campo a sei mesi di distanza dal delicato intervento di ricostruzione dei legamenti del ginocchio.